Il cantiere è Marco Mariner Costruzioni e il modello è il Revolution 26. L'idea principale è prendere un modello, un nostro 10 metri e mezzo di grande successo, il Revolution 35, e farlo in versione compatta, un 8 metri, che richiama in tutti i dettagli il 10 metri e mezzo. È un modello monomotore che arriva fino a 450 cavalli. Sicuramente non è un prodotto per armatori alle prime armi, è un prodotto di chi sa cosa sta cercando, perché conosce già la nautica, conosce il mondo dei gommoni e se vuole il meglio è qua.